86 aggressioni a medici nel 2021 nella sola azienda ospedaliera di Padova. Nel 2019 erano state 22, un dato che però non riflette completamente la realtà perché tanti operatori sanitari ancora non denunciano le violenze subite. Il Ministero della Salute ha istituito per il 12 marzo la prima giornata nazionale di prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, una campagna di prevenzione ed educazione a cui è aderito anche la Regione Veneto. La pandemia ha inciso molto sul rapporto tra medico e paziente. Nessuno è più come prima. Qui si è toccato nervi importanti delle persone nel loro agire quotidiano. C'è più sofferenza, c'è più fatica, c'è più stanchezza, c'è meno capacità di sopportare, tutto diventa un diritto, tutto diventa subito, ma non è così perché come sono stanchi le persone che vengono a chiedere aiuto, altrettanto sono stanchi gli operatori. Da sanitari eroi nella prima fase del Covid, da medici diventati il capro espiatorio e valvola di sfogo di ogni malumore, la violenza nei loro confronti sempre di più non è solo verbale ma anche fisica. I problemi maggiori noi li abbiamo in termini di violenza e di aggressività verbale o fisica con le persone che sono stratificate in basso dal punto di vista del codice di ingresso. Quindi il codice bianco per definizione, cioè difficilmente noi abbiamo problemi con il codice rosso o arancione, con il codice giallo, anche perché i tempi di gestione evidentemente sono più brevi. Non ci sentivamo eroi prima, non lo siamo ora, facciamo solo il nostro lavoro, ovvero prendersi cura dell'altro, ha spiegato il dottor Cianci, direttore del pronto soccorso, il reparto ospedaliero, insieme al suo M118 dove avviene il maggior numero di aggressioni. Necessario educare al rispetto, far rete per fornire percorsi di recupero ai sanitari e informare sulle possibilità di denunciare le violenze. La polizia di Stato, presente con il posto di polizia in azienda ospedaliera, spiega come è cambiata la procedura. Sia per le lesioni ma per qualsiasi altro reato, anche più piccolo, ormai per effetto delle aggravanti, c'è una possibilità d'ufficio, non c'è alternativa, bisogna segnalare agli uffici di polizia per i quali poi procedono con la loro attività investigativa per poter inoltrare la notizia di reato alla procura. È un sistema che su altri settori ha funzionato perfettamente, ha consentito di ridurre il fenomeno delettuoso e quindi credo che su un lungo periodo, anche per quanto riguarda questo tipo di reati, sarà vincente. Grazie Grazie Grazie